Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti ad un nuovo video, oggi i miei capelli sono più crespi del solito, non fateci caso per favore, ma proprio non mi andava di passare la piastra, sto abusando della piastra e del colore sui miei capelli, quindi devo darmi una regolata, ma mia family io sto per partire per l'Italia, però ho un po' di tempo prima di dover andare in aeroporto e quindi voglio assolutamente fare con voi un altro unboxing di un nuovo calendario dell'avvento luxury, come promesso. Ieri abbiamo visto Dior, oggi vediamo ragazzi Balman, non sapevo nemmeno che Balman avesse dei prodotti, cioè sapevo dei prodotti, ho scoperto da poco dal parrucchiere, ma non sapevo che facessero anche il calendario dell'avvento, quindi ve l'ho detto, quest'anno mi sto appassionando particolarmente, a questi calendari mi fanno impazzire e quindi appena ho visto lui ho voluto subito prenderlo per farvi il video, quindi vedremo tutte le caselle e vedrete appunto che cosa c'è all'interno e come vi ho detto nell'altro video, penso che siano molto utili questi video di unboxing dei calendari dell'avvento in modo che possiate farvi un'idea del contenuto, se volete acquistarlo per voi o per un regalo e soprattutto per vedere il rapporto qualità prezzo se conviene oppure no, perché ovviamente i calendari dell'avvento sono sempre un po' un acquisto a scatola chiusa perché non sappiamo che cosa ci troviamo all'interno, quindi potete decidere anche se vedere naturalmente tutto il video o se saltare e vedere solo qualche casella, tanto per farvi un'idea se non volete rovinarvi completamente la sorpresa, andiamo quindi ad aprirlo assieme, questa è la scatola, si presenta così, è una scatola bianca, semplicissima, ma appunto davanti troviamo il logo di Balmain con la scritta Hair Couture, perché ragazzi questi sono tutti prodotti per capelli, appunto Balmain che è un marchio famosissimo di moda, ha anche degli ottimi prodotti per capelli e qui sopra c'è appunto il logo tutto dorato, ma vediamo il vero e proprio calendario dell'avvento all'interno della scatola, eccolo qui il nostro calendario dell'avvento, molto bella devo dire la confezione, molto semplice, e qui davanti c'è sempre lo stesso logo dorato, vediamo come si apre, non ne sono certa, ok si è un po' spostato il tutto penso nella spedizione, c'è questo pezzetto di plastica, c'è scritto qui di rimuoverlo, quindi togliamolo, serviva probabilmente soltanto a sostenere diciamo la confezione, a mantenerla rigida della forma originale, ho cercato di sistemare il tutto all'interno, ma questo è il meglio che riesco a fare, ci sono un po' rimasto onestamente perché per calendario dell'avvento mi aspettavo delle vere e proprie caselle, come abbiamo visto ieri con Dior, qui invece sopra la confezione c'è il numerino, appunto questo è il 20, che appunto corrisponde al giorno di dicembre in cui andiamo ad aprirlo, però mi dispiace appunto che non ci sia, perché secondo me proprio il senso di un calendario dell'avvento è di andare ad aprire le caselle, ok io devo aprire le caselle ogni giorno e questo non mi dà tanto l'idea di un calendario dell'avvento, se non forse più una scatola piena di prodotti del brand che ha però delle numerazioni, le scatoline sono 10 in totale quindi il conto non inizia dal primo dicembre ma a questo punto dal 14, perché se ne abbiamo 10 andrà dal 14 al 24 presumo, il primo è il numero 15 ed è difficilissimo trovare i numeri sulle confezioni e sono io ceccata, ditemelo voi, ma io a malapena le vedo e qui appunto si cela il numero 15, non ho mai provato e non conosco i prodotti in particolare di Balmain, quindi vediamo, ok prodotto numero 1 molto utile, mi piace perché non finisce, non è un prodotto che si finisce e poi si butta il flaconcino vuoto, una cosa che torna sempre utile, piccolina naturalmente da viaggio ma è una spazzola appunto con il logo Balmain, eccolo così lo leggete meglio Balmain in basso, molto molto bella, sembra tutto sommato di ottima qualità, naturalmente piccolina mini size ma per i viaggi è più che utile. Scatolina numero 16, eccola qui, sono davvero carine le confezioni che ricordano questi palazzi parigini, tutto sommato anche se non ha la forma di un calendario il fatto di fare il conto alla rovescia, di avere i numerini, comunque mi sta piacendo eh, onestamente. Allora, primo prodotto effettivamente abbiamo il leave-in conditioning spray, uno spray, un balsamo spray senza risciacquo, questa è la confezione, naturalmente è un mini size, poteva essere un pochino più grande diciamo, sono 50 millilitri. Scatolina numero 17, il numero si vede a malapena e si trova qui in alto, molto simile alle altre, cambia praticamente soltanto la grandezza ma le scatoline sono tutte uguali. Non capisco tanto il senso di iniziare a contare dal 15 ma sorvoliamo questa cosa, altrimenti mi lamenterò di questo per tutto il video perché per me è sacro, il primo di dicembre devo aprire il mio calendario dell'avvento, anche se è solo quello con i cioccolatini che mi prende mia mamma, però io devo iniziare dal primo dicembre, quindi altro prodotto che troviamo, questo devo dire come grandezza non è male, non è male, non è proprio così mini 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 e sono anche qui 50 millilitri, questo è uno shampoo idratante, molto interessante questo, devo dire per i miei capelli che sono sempre super secchi, ecco qui la confezione e leggo che è fatto appositamente per capelli secchi o anche colorati, quindi perfetto perfetto per me. Scatolina numero 18, appunto mi sembrano tutte forse non uguali, identiche ma molto simili, sono diversi palazzi ma tutti con lo stesso stile. E nella numero 18 troviamo, sempre della stessa linea dello shampoo, c'è anche il balsamo, un balsamo idratante, eccolo qui, sempre della stessa linea, quindi sempre per capelli secchi o colorati e anche qui ci sono 50 ml. Poi a fine video comunque che nell'altro non ve li ho fatti vedere ma secondo me è utile, a fine video vi faccio vedere proprio tutti i prodottini assieme in un unico frammento di video, così insomma riuscite a vederli subito. Altra scatolina, questa è la numero 19, eccolo qua il numerino, scatolina un pochino più grande rispetto alle altre. Questo è un po' deludente ragazzi, cioè pensavo fosse vuota e poi ho visto che c'è soltanto... No, in realtà non è mica male. Allora, inizialmente pensavo fosse tipo una molletta da parrucchiere, mi son detta no ma che cos'è sta roba? Però penso in realtà che si tratti di un accessorio per capelli, naturalmente con il logo di Balmain, solo che se devo essere onesta, ecco così lo vedete meglio, se devo essere onesta io non so come si utilizza questo accessorio per capelli. Dovrò fare delle ricerche su internet, se c'è qualcuno di voi che sa spiegarmi, spero sia possibile da indossare con i miei capelli lisci. Onestamente appunto mi aspettavo un prodotto, non mi aspettavo un accessorio, ma se riesco a capire come si utilizza non è affatto male. E siamo già alla scatolina numero 20. Questa è l'unica, completamente diversa da tutte le altre che hanno questo pattern con questi disegni dorati. Questa invece è semplice, bianca, così con le bordature ed il logo davanti e sopra troviamo il numero 20. Sono particolarmente curiosa, non so che cosa aspettarmi vista la scatolina così diversa rispetto alle altre. Ah che carina ragazzi, no vabbè questa è troppo troppo bellina. È una mini candela profumata, troppo troppo carina, molto bellino il pack, peccato così piccolina, però devo dire molto bella. C'è scritto Signature Fragrance, quindi il profumo tipico, classico di Balban e vi devo dire ragazzi ha un profumo buonissimo. Dolce, quasi goloso, quasi pasticcino dolce ma anche un pochino neutro. Buonissimo, molto, molto carina davvero. Questa mi è piaciuta molto, sarà che io comunque ho una passione sempre avuta per le candele profumate e quando le trovo nei calendari dell'avvento sono sempre contenta. Quella Dior però devo dire era decisamente più grande di questa, questa è proprio piccola piccola piccola. Siamo già alla numero 21 ragazzi. Ragazzi, questo è il numerino, sta qua in alto, appunto è difficilissimo da trovare, sta qui in alto il 21. Questa scatolina piccolina, quadrata e piatta. E all'interno c'è uno specchietto, dovrebbe essere. Sì, c'è uno specchietto. Eccolo qui lo specchietto, molto, molto bello con il logo tutto dorato e c'è il doppio specchietto. Anche questo, come la spazzola, mi piace perché appunto non è un prodotto che poi finisce ma è un accessorio che rimane nel tempo. Arriviamo alla numero 22 ragazzi. Media grandezza per questa scatolina, ma almeno il prodotto sembra pesante. Wow, interessante questo prodotto, non lo conosco assolutamente. Elisir idratante all'olio di Argan. Davvero un prodotto che mi incuriosisce, così vedete bene il flacone. E questo anche un po' di prodotto in più, perché qui ci sono 100 ml. Siamo alla penultima ragazzi, scatola numero 23. Sono impazzita per trovare il numero, ma è qui. Eccolo qua, perché davvero è difficile, difficile da trovare. Ok? Vediamo che cosa c'è. Questa mi sembra anche questa parecchio pesante. Secondo me c'è un full size. Sì, direi proprio che si tratta di un full size, perché sono 200 ml. E questo è uno spray termoprotettivo, quindi serve. Appunto stavo parlando di come io stia abusando del calore nei capelli. Uso sempre naturalmente un termoprotettore, assolutamente. Altrimenti sarebbero probabilmente già fritti. Però appunto stavo parlando proprio di quello e di quanto siano importanti questi prodotti che vanno a proteggere i nostri capelli, sempre, sempre, sempre da spruzzare su ciocche singole prima di andare a passarli con la piastra o con la riccia capelli. Mi raccomando, specialmente se avete i capelli sottili come i miei, fidatevi che la svolta se lo fate sempre con costanza. E questo appunto sono molto curiosa di provare. Questo è il prodotto, appunto, vedete, sono 200 ml, quindi penso proprio che sia un full size. E ragazzi, siamo arrivati già all'ultima confezione, quella della vigilia, la numero 24. Scatolina, anche questa parecchio grande, questa è quella che abbiamo appena aperto. Sono della stessa, praticamente identica grandezza, quindi presumo che anche qui ci sia un full size perché da Dior non abbiamo visto neanche un full size in realtà, quindi qui almeno ce ne sono già due. Sì, si tratta di un full size anche se è un prodotto che secondo me non tantissimi possono utilizzare. Ad esempio, se avete i capelli sottili, senza volume come me, è un po' difficile da usare, specialmente in inverno, in estate è un pochino già più facile. Questo è un texturizing salt spray, quindi uno spray che crea texture, che crea volume a base di sale. Insomma, vi fa un po' l'effetto beachy waves, eccetera. Però sul mio tipo di capello è una cosa molto difficile da realizzare se non vado prima appunto a farli con il ferro, eccetera. E questo tipo di prodotto con il sale sul mio capello, diciamo, non è il massimo. So però che ad alcuni piacciono molto questi spray, che ha i capelli mossi, ricci, ci sta da dio. Quindi appunto va a gusti. Per quanto mi riguarda, penso che forse un altro prodotto più adatto universalmente a tutti sarebbe stato, secondo me, più azzeccato. Questo è lo spray, la grandezza è la stessa del termoprotettore, appunto 200 ml per un full size. E questi ragazzi sono tutti i prodotti che abbiamo trovato all'interno del nostro calendario, insomma della nostra box. Sono appunto 10 in totale, con 3 accessori, una candela profumata in versione mini size. Il resto appunto sono prodotti per capelli, dei quali solo 2 in full size. Ma il resto sono comunque confezioni abbastanza grandi. Quindi mia family, questo è quanto per il video di oggi. Spero che vi sia piaciuto, che vi sia stato utile. Fatemi sapere tutto nei commenti, naturalmente nel titolo da qualche parte vi metterò anche il prezzo esatto. Così potete valutare, secondo voi, se è un prezzo onesto, secondo voi se il prezzo è troppo alto, se conviene, come rapporto appunto qualità, prezzo oppure no. Scrivetemi tutto nei commenti. Io vi mando un bacio gigantesco. Adesso parto per l'aeroporto. Non so esattamente quando riuscirò a caricare un nuovo video. Quindi ci vediamo al prossimo video. Bacio grande, venite qua, venite qua che vi abbraccio. Forte, forte, forte. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. 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 Ciao.